ma in realtà putine non andava provocato bisognava evitare di provocarlo per evitare di arrivare in questa situazione adesso sarà molto complicato tornare indietro sono totalmente convinto che esistano sono totalmente convinto che l'universo è troppo grande solo per noi e sono anche totalmente convinto che probabilmente sono già qui ma io ti ringrazio e ti abbraccio forte credo che siamo anche più di dieci anni se non erro sono 14 ma forse ragione tu non ne parla nessuno perché se non ne parla la tv qui si crede solo a quello che dicono i tg sai non lo so se dipende da questo anche in molti stati americani non c'è stata nessuna dittatura pandemica come il texas come la florida quindi no da questo punto di vista io non generalizzerei credo che i motivi siano altri ma proprio perché è scappato dall'afghanistan sta succedendo quello che sta succedendo adesso perché con un'america forte quello che sta succedendo adesso non sarebbe successo è proprio perché come dici tu sono d'accordo con te anche perché molti dei gasdotti russi passano sotto l'ucraina per arrivare in europa quindi sono anch'io convinto del fatto che non la vogliono distruggere spero che putin rinsavisca vabbè per l'italia il problema non si pone perché è già talmente faziosa tutta l'informazione italiana che voglio dire e d'altro canto siamo agli ultimi posti in quanto a libertà e veridicità dell'informazione nel mondo sai trump dice che se ci fosse stato lui in questo momento come presidente degli stati uniti d'america tutto questo non sarebbe successo considerato anche il grande successo che trump ha avuto nel sedare il pericolo della corea io gli credo tu dici che l'ucraina che non accetterà mai oggi zelensky ha detto che vuole parlare con putin non vorrebbe parlarci in bielorussia ma vuole parlare con putin quindi io credo che l'ucraina abbia tutto l'interesse a tornare indietro e ma perché ci sono guerre che vengono trasmesse in tv e che diventano casi internazionali e guerre che vengono invece totalmente occultate dall'informazione perché economicamente non interessano nessuno e la gente beve hai totalmente ragione il problema è che l'europa non conta una beniamata minchia purtroppo come ha ampiamente dimostrato in queste settimane l'europa non conta niente totalmente d'accordo anche con te l'invasione e la guerra è sempre una merda sono d'accordo con te bisognava parlare soprattutto sapendo che provocando un pazzo può succedere questo esattamente amica mia esattamente ogni tanto un ripassino farebbe bene brava ti abbraccio